Ciao a tutti ragazzi, quindi tornati qui oggi con questo nuovo video ho una brutta notizia da il video speciale con mio cugino non si sente l'audio lo rifaremo, lo rifaremo e quindi uscirà settimana prossima mi dispiace ma è così quindi oggi come speciale porterò gli amici cucciolotti ovviamente questa qua è una copia omaggio che a scuola mi hanno dato qua ci sono delle cassette dove contenere le figurine che è semplici da montare dovrete praticamente piegare dovrete piegare l'alla allargata, chiudi e così e così e così e abbiamo fatto inoltre c'è una nuova c'è una novità che sono i parlottini e non dobbiamo dice che non dobbiamo più utilizzare il telefono e scambiarci questi parlottini ovviamente ora guardiamo l'album non lo guarderemo tutto uno a uno perché sono bene 144 pagine e quindi non abbiamo tanto tempo e poi sarebbe anche noioso questa parte qua è la mia migliore non ho attaccato i doppi lotti su queste pagine ma su quelle trasparenti altrimenti non potrei leggere il doppio messaggio ok allora qua praticamente dobbiamo mettere dove incollare delle figurine che ci vedono da una parte e anche dall'altra dopo qua ci sono guardate una curiosità che c'è scritta qua in alto c'è scritto dalla 329 alla 366 cioè se io trovo la pagina la figurina 402 invece che andare a cercarla a cercare girando pagina per pagina basta guardare sopra quattro quattrocentodue eh trecentocinquantuno quattro vabbè ups vabbè comunque avete capito questo qua è l'album uscito quest'album ovviamente o apriamo i due pacchetti in omaggio ora vediamo cosa troviamo ovviamente troveremo un parlottino ok apertura oh ci sono anche dei giochi ah infatti questo qua se non mi sbaglio è un parlottino sì parlottino volevo dirtelo di persona grazie scrivere il cuore dopo qua dopo qua dietro puoi scrivere quel che vuoi vediamo cos'altro abbiamo trovato allora ops sono girate qua ci sono anche dei giochi coloro gli spazi con i puntini cosa apparirà vediamo ho trovato questo cane oh no è lunedì dopo ho trovato il pesce unicorno pesce unicorno questo coniglio non si finisce ma di stupirsi una farfalla dopo due offre il rifugio a molti animali l'albero e pulisce l'aria infine la pazienza è amara ma il suo frutto è dolce in ogni gustino che costa 0,60 centesimi l'una ci sono una due tre quattro cinque sei sette sette figurine più un parlottino ok ora apriamo l'altra facciamo lo sporchitamento come utilizzavamo nelle adrenalini vediamo aspetta che adesso le metto tutte dritte così non devo sempre girarle dritta 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 ok qua c'è il parlottino per esempio adesso perché non passiamo più tempo insieme chiede questo parlottino dopo ci sono c'è questo serpente cos'è un koala mi sembra boh questo qua è un pesce gatto se no mi sbaglio le fauci di un coccodrillo che credo che sia diviso in pezzi dopo vedremo anche questo credo il kudu maggiore si chiama kudu maggiore dopo qua c'è la grandule di mamma qua infine la soluzione a tutti i problemi del mondo si basa su rispetto alla responsabilità ok ora io vi metto un attimo in pausa metto tutte le al metto metto tutte le figurine in ordine e dopo possiamo e dopo le incolleremo va bene ok eccoci ritornati me ne manca solo uno che è il 440 e va 470 1 440 va qua ora le radri sono tutte raggiudate ok ovviamente i parlottini non si mettono sono adesivi quindi non si mettono sull'album questi due e quindi andiamo qua inizio c'è il serpente che è il numero 65 65 65 43 55 65 65 eccolo qua viper viper ah questa qua è la vipera arbor arboricola dei grandi laghi pensa che anche comprando questo album si scoprono anche nuove nuove animali che non si conoscevano ovviamente io non la conoscevo cioè questo animale io non lo conoscevo e quindi ci resta cosa dopo c'è questo 75 che scopriremo che cos'è 74 e 75 qua in cima ed è Indri cantano in gruppo inizia la femmina poi si unisce il capogruppo mentre i maschi più giovani alterano il proprio canto a quello degli adulti per farsi notare ora lo attacchiamo vediamo di riuscire per attaccarlo bene e l'abbiamo attaccato male perché non l'ho guardato sotto dopo c'è il kudu maggiore che è numero 104 ovviamente guardiamo sotto sotto fino alla 101 qua quindi dovrebbe essere qua 104 qua non so neanche se riesco a prenderla perché è in tutta pagina eccoci ci siamo riusciti e attacchiamo questo kudu maggiore infatti guardate anche che bello con queste corna spirale le spettacolari corna spirale presenti solo nei maschi quindi questo qua è un maschio possono arrivare a circa un metro virgola otto di lunghezza wow molto lungo qua c'era 143a e 143 a e b vediamo 120 e ciao adesso andiamo già alla 200 143 sì ciao c'è 181 143 ok 143 scusate che ci sono le campane che suonano allora io direi che youtube no vabbè 100 qua 100 da 3 e infine 143 b ok adesso c'è 149 149 149 149 149 che non è da comporre ma c'è già un pezzo qua sopra ok ok dopo c'è il coniglio guardate qua 218 218 232 222 quindi è qua 218 il coniglio tra gli animali della fattoria ed eccoci qua che sono riuscito a prender a staccarlo il nostro bel coniglio gli antichi romani furono i primi da allevare i conigli selvaggi solo nel medioevo tuttavia nei cortili dei monasteri inizia la vera selezione dei conigli domestici con razze più grandi e a pelo morbido rispetto ai selvatici oggi esistono più di 60 razze ok adesso c'è 326 329 326 qua ah il cane che dice oh è lunedì ed eccolo qua il nostro cagnolino 300 no 230 scusate ragazzi 230 lo stavo incollando in un posto sbagliato 230 di qua 230 ah forse ho capito perché lunedì ah no 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 questo qua dovremmo dirlo noi scolari scolari inteso noi bambini è lunedì bisogna andare a scuola che voglia adesso pinguino di Magellano nuovo album di Gabani adesso c'è la 326 310 310 3126 che ha la farfalla che è questa farfalla o storta va incollata così dopo c'è 315 ah no ancora di qua 315 è ancora di là scusate ho sbagliato a metterlo in ordine quello là in cima rosso 113 grandole di mamma qua ed eccolo qua c'è il pesce unicorno 440 e quindi qua non ci sono da incollare che ci speravo che sono molto belle cioè o meglio a me piacciono dopo mi raccomando non di non non ho detto a me mi piacciono a me piacciono 440 pesce unicorno ed eccolo qua il nostro pesce unicorno che va qua per curare se in collo ho sbagliato ma sono di fretta perché i miei video non possono durare devono durare meno di 15 minuti se no youtube non me li lascia caricare e è un vero peccato per me non riuscire a caricare questo 448 non si finisce mai di stupirsi ragazzi mi ne mancano 3 ho poco tempo dirò che adesso metto in pausa per le pagine vi farò vedere solo quando incollo ecco va qua in cima e ora vado sul prossimo 496 496 va qua in basso e infine c'è l'ultimo io vi dico grazie di essere stati con me abbiamo incollato l'ultimo grazie di essere stati con me il video si conclude qui 10 secondi e ciao ciao ciao